ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio mi fotto la cesta vi ricordate che no 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 allora posso buttare 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 niente facciamo così rimetto giù la cesta e basta vi ricordate che erano rimasti nel dungeon ho fatto antindietro ho chiuso qua il passaggio così lo lasceremo aperto ma perché sono pirla porca trota porca trota vabbè ci sono rimasti tre di questi via bene torniamo su andiamo a scaricarci e poi dovrei continuare in caverna ragazzi perché mi serve oro redstone e tutto l'ambra trattico qui sono riuscito a mettere alcune scale sono riuscito a mettere delle scale quelle che mi erano avanzate nel momento in cui per il momento non abbiamo non abbiamo che pirla bastava che univo questi pirletta dicevo non abbiamo la filosofer stone direi di cuocere un bel po' di questi ne servono otto ok poi mettiamo tutto qui per il momento via 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 il secchio ce lo teniamo via il ferro dovremmo fare ancora lo smistamento ceste e tutto ragazzi caramelle ce le teniamo questo via dovremmo avere il tutto bene continuiamo a scendere in quella caverna per vedere dove arriviamo ok siamo scesi un bel po' siamo arrivati altezza 8 e voilà redstone redstone ah già quello di ferro redstone e quanta redstone siamo arrivati alla bedrock ragazzi voilà bene richiudiamo il tutto perché voglio fare le cose precise ok qua si chiude allora bisogna arrivare al 6 perché il 6 è il minimo si può arrivare anche 5 4 a volte ma il 6 è perfettico allora qua si può rompere o 2 addirittura 2 questi qua valgono 4900 qualcosa o 4090 nella nella transmutation table allora e 6 vedete che c'è la bedrock perfetto ora qui farei anche qui la stazioncina giusto per quando arriverà il nostro la nostra pista lì per cui allarghiamo un po' ok ok siamo arrivati giù ragazzi ora 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 io direi di salire su e facciamoci quei bastoncini magici vediamo se riusciamo a trovare del diamante 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 ok però mi servirebbe anche della legna 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 andiamo prima a fare della legna ok facciamone un po' così con la scusa battiamo questi alberi davanti casa perfetto ok ok allora con la legna mi serve una porta mi serve una porta perfettico poi 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 lasciamo un po' di legna mi servono dei bastoncini e delle torce voilà bene poi dicevamo lasciamo tutta questa roba che non ci serve questi qui questi qui ci serve un pezzo di ferro ci serve un pezzo di legna vediamo un po' qua sta cuocendo ok facciamo un pezzo di carcicole tankete intanto intanto facciamo ferro e redstone e facciamo quello azzurro poi ci serve il carcicole perfettico facciamo intanto un bastoncino voilà ok poi pietra 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 e il carcicole facciamo quello verde e vai ok quello verde e il bastoncino facciamo il bastone verde che lo upgradeiamo a quello azzurro per fare quello blu ci serve il diamante e voilà ora possiamo lasciare questa qui ci teniamo quella azzurra dietro anzi tutte queste pappette le lascerai qua va si via la redstone che non ci serve via questa roba chi ok possiamo scendere allora questa porta sicuramente la andrò a mettere lì nel vincolo nel vicolo dove per andare dalle zombie qua tatankete ok non si sa mai spunta qualche zombie e con questo bastoncino premendo la G 16x3 3x3x3 16x3 per arrivare al 64x3 ci serve quello di diamante allora vediamo di qua tasto destro 320 attin 4096 è la l'uranio 320 bene andiamo dal 4096 allora cominciamo cominciamo che è qui ah grazie amico guardate chi le trovi l'apatite l'uranio e i lapiscazzoli i lapiscazzoli voilà servono i lapiscazzoli servono servono per fare i moduli per fare lo smistamento chest se vi ricordate vai 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 poi per quanto riguarda lo smistamento chest eccetera ragazzi se vi annoia perché l'ho fatto un miliardo di volte magari lo faccio a telecamere spente tutto l'impianto e per chi invece non sa come si fa vi metto il link in descrizione magari quando lo farò del tutorial che avevo fatto già in una vecchia technique pack raccogliamo tutta sta roba ci piazzichiamo una torcia ok e continuiamo qua c'è l'altra patite che serve per fare il fertilizzante ok poi prendiamo il nostro bastone e continuiamo 256 è ferro 2048 è oro ferro 4096 è quello andiamo a prendere prima l'oro 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 ah chi te lo chi vedete adesso se ero quasi pieno se c'è se avevo già fatto l'impiantino lì delle rotaie io rimpivo il coso il minecart e lo mandavo su però purtroppo non ce l'abbiamo ancora allora vediamo di qua 4096 256 1 andiamo avanti sento rumore di acqua ci servirà anche logicamente ragazzi l'ossidiana 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 dai dai andiamo a prendere quel pezzo di stronzo questo è questo qui l'uranio per chi non lo sa l'uranio serve per fare la centrale nucleare oppure si può vendere nella transmutation table 320 128 320 niente diamante niente ragazzi porca trota porca trota vacca loggia niente diamante vabbè non fa niente non fa niente però magari facendolo così a cavolo becchiamo il diamante no eh niente va bene va bene non fa niente poi qui continueremo ok ora io direi di tornare su un attimino ok andiamo a vedere qua se ha cotto la pietra 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 sì allora la pietra la facciamo diventare pietra lavorata tankete e facciamo gli scalini oh e dai facciamo gli scalini aia porca trota ho preso una storta al dito quanti ne vengono 32 40 30 40 30 40 vediamo un po' dovremmo arrivarci eh dovremmo farcela vediamo un po' ho fatto una caghetta con quella porta qua c'è lo scalino ok ho fatto una caghetta con questa porta perché dovevo andare da un'altra parte come cavolo faccio allora tolgo e mi invento qualcos'altro a primo momento la togliamo continuiamo con gli scalini e vediamo come cavolo fare lì dove arriviamo dove arriviamo azzo non ci arriviamo per poco giù azzo allora vediamo un po' come fare kiwi un lupo mannaro un lupo mannaro come posso fare porca trota che poi sarei anche pirla perché niente ragazzi mi tocca fare così guardate lasciare così e mettere la porta qui è l'unica voilà si è l'unica bene poi faremo altre scale che vanno giù magari metto a cuocere l'altra pietra mi servono le scale anche lì per cui mettiamo a cuocere l'altra pietra intanto 1,2,3,4,5,6,7 26 mettiamo uno stack da 64 qui è finito ci liberiamo un po' poi qua è tutto da dividere il lapiscazzo di questa roba qui il bastone lo lasciamo qui via 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 questo giù via via poi qua ho sbagliato guardate volevo fare le scalini prima la telecamera è spenta invece ho fatto questi qua mettendoli in questo modo facciamo questi blocchi vabbè comunque ragazzi comunque comunque il tempo che cuoce lì poi dovrò allargare ancora qui intanto 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 è notte a me però servono anche delle pecore porco troto porco troto muovo una mela porco troto mi servono delle pecore liberiamo questi chi liberiamo questi chi oh una donna ragazzi se mi riuscite a dire a cosa servono sti cosi qua io quello che so vi insegno tutto il resto no scusa porca trota tutto il resto lo insegnate voi a me stavo dicendo oh è morto ah non rilasciano niente oh e dai buono non rilasciano niente oh che è che è che ciao che sta combinando no ragazzi ve lo giuro in là in diretta non lo sapevo due ghiaccioli ma questa manco c'entra qua dentro bunga bunga oh che tettona questa e non si dicono queste cose ma ce n'è uno imboscato sotto oh madonna un anetto devo stare attento a non colpirli ragazzi ma questa sta scavando no bunga bunga ma allora che una donna ha la voce da uomo ragazzi ma che è questa roba no io non lo so ragazzi facciamo così rifugio strano no spiegatemi a che serve ragazzi perché si è costruita sto rifugio e ci ho trovato dentro questi due ghiaccioli qua bene ragazzi direi che anche per oggi è tutto entro in casa vi dico che da Luke è tutto dopo sono 360 45 ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti